Luigi La Rosa, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. E benvenuto qui nel posto delle parole per condividere il suo nuovo libro, il suo nuovo libro pubblicato dalla casa editrice Giulio Perroni a Parigi con Marcel Proust, Le stagioni della memoria. Ora, prima di entrare dentro il libro, senza stare lì a dire della nostalgia del libro cartaceo, che ovviamente è naturale che ci sia, però quando si ha l'oggetto libro che sia pubblicato con una certa cura, credo che anche per noi lettori sia una cosa molto bella. E quindi lo considero un dono quando il lavoro è fatto con cura. Lei cosa ne pensa del suo libro? Semplicemente, mica tanto, semplicemente, per quanto riguarda la confezione, l'estetica, la carta, ce lo racconti Luigi La Rosa? Sì, devo dire che sono molto molto contento perché questo libro che ha realizzato appunto la Giulio Perrone è un piccolo gioiello anche di grafica. Devo dire la carta, la qualità. È una collana molto molto bella. E anche gli altri volumi che la compongono. E c'è una cura, un'attenzione. Addirittura la terza di copertina diventa segnalibro per cui si può ritagliare. C'è delle trovate anche. E sta piacendo molto ai lettori, anche dal punto di vista strettamente proprio dell'oggetto, ecco, oggetto libro, perché c'è questa attenzione, questa cura. Sono molto contento di questo libro. Molti mi dicono, è un libro che tengono sul comodino, che la sera sfogliono per dormire proprio come si fa a volte con i testi poetici o con quei testi che in qualche modo ritieni preziosi. E questo mi rende davvero felice. Ed è una collana, Passaggi Dogana, la collana di Giulio Perrone, che ha un art direction molto importante, a Maurizio Ceccato. Chissà se questo libro, nella sua confezione, sarebbe piaciuto a Marcel Proust. Cosa ne penso? Che Marcel Proust aveva per questo anche delle sue particolari idee. Credo di sì, perché Marcel Proust, come tutti i grafomani, aveva un rapporto con la carta. Basta vedere i manoscritti di Proust, sono incredibili, perché lui aggiungeva delle alette, diciamo, laterali alle pagine, che ricuciva, per cui questi fogli si aprivano proprio, erano come dei mondi, che si aprivano con questa grafia che strabordava anche su tutti i margini. Quindi un libro del genere, secondo me, lo avrebbe gradito proprio per la cura, appunto anche per la copertina, come le diceva, molto bella, molto curata. Quindi credo che un amante dei libri e della carta come Proust lo avrebbe tenuto tra i suoi libri preferiti. Certi libri nascono da una ferita e sanguinano il loro inchiostro loquace fino all'ultima pagina. Certi libri sono stazioni del tormento e anche questo è in qualche misura frutto di un dolore che collima con i toni tenui dell'alba. Così comincia al numero 44, Rue Hamelin, era il novembre 1922. E così comincia questa storia, così Ovas Baladé a Parigi, andiamo a fare i flaneur a Parigi insieme con Marcel Proust. E questi libri nascono da una ferita, Luigi la Rosa. E qual è questa ferita? Sì, ma io credo, questa è un po' un'idea mia di poetica, cioè che tutta l'arte e soprattutto la scrittura nascano da una ferita sostanziale. E la ferita fondamentalmente è quella del male di vivere. Il male di vivere che gli artisti sentono sulla propria carne e che sentono il bisogno di sublimare in una forma espressiva, che nel caso di Proust era la scrittura, male di vivere in cui entrano tutte le difficoltà della vita, del quotidiano, ma anche i drammi delle dinamiche familiari, nel caso di Proust il rapporto con la madre, il rapporto col fratello, il rapporto col mondo che lo circonda, la propria diversità rispetto agli altri, sia come uomo che come artista. Ecco, tutto questo secondo me compongono quella ferita, quel malessere che tutti sentiamo, ma che alcuni avvertono in maniera più divorante, più bruciante. E Proust era uno di questi uomini che avvertiva questo male di vivere in maniera divorante, fino all'ultimo, che esorcizzava poi nella scrittura, ma anche in una vita piena di vitalismo, di amori, di passioni travolgenti, perché una cosa che io ho cercato di sottolineare con questo libro è la carica vitale di quest'uomo. Spesso c'è una grande bugia intorno a Marcel Proust, lo si crede un monaco della scrittura rinchiuso in una stanza, lo si crede un uomo privo di passioni, quando invece la biografia ci racconta che in 51 anni Proust ha vissuto tutto, ha sperimentato tutto, è stato un uomo estremo, che ha conosciuto gli eccessi, ma ha conosciuto anche gli affetti lungamente condivisi, è un uomo assolutamente completo che ha vissuto e che, secondo me, va riscoperto, va riscoperto assolutamente. Va riscoperto e noi lo riscopriamo a Parigi, e Parigi è una città importante per Marcel Proust, e scopriamo Marcel Proust, ma allo stesso tempo scopriamo anche Parigi. Se avevo scelto Parigi era stato per ardore, per stupore, quasi per un confuso capriccio. Ecco, e Parigi è i genius loci anche. Sì, assolutamente. Parigi, che anche nella mia vita ha rappresentato un momento di svolta catartica, cioè io ci sono arrivato per una vacanza, un viaggio 15 anni fa, e ho deciso di rimanere via vita. Parigi è una città che davvero ti cambia l'esistenza, per le suggestioni, per le sue energie, e vagando per Parigi, ma soprattutto percorrendo l'itinerario delle case in cui Proust vive e muore, ci si rende conto di come molte di queste energie sono diventate parola, sono diventate la recherche. Molte di queste suggestioni. Parigi veramente entra nelle pagine, non solo Parigi, ma anche la Francia, la cultura francese, la Normandia. Sono emozioni che Proust filtra fino a farle diventare immagini eterne. Chi di noi può passare oggi su Bulba Osman e non fermarsi davanti alla targa che ricorda che lì Proust visse e scrisse tra le sue pagine più intense. Sono quei luoghi che diventano anche proprio delle stazioni, delle stazioni per chi ama l'arte, per chi ama il pensiero. Eh sì, perché quella targa è una targa importante e non confondersi semplicemente tra una vetrina e l'altra, ogni tanto guardare in su, guardare la targa, la lapide dove scrive questo. Poi credo poco più in là ci sia anche la lapide del librettista Offenbach, se non ricordo male, ed è anche un altro personaggio che entra in questo libro, perché qui pullula di personaggi straordinari, vero Luigi La Rosa? Sì, Offenbach abitò proprio all'angolo. Boulevard de Capucine, se non ricordo male. Proprio a due passi dall'Opera. Esattamente. A due passi dall'Opera. Sì, quella è una zona piena di suggestioni ed è tra l'altro una zona dove arrivavano, dove sbarcavano tutti gli artisti italiani che avevano successo in Francia, andavano a vivere lì. Infatti c'è un tratto di quel boulevard che prende appunto il nome di Boulevard desitaliani, dove andavano tutti gli italiani. Ma è anche il luogo in cui finisce la belle époque. Tu vedi questo crepuscolo di un'epoca e l'apparire, il nascere del nuovo secolo. Proust è proprio figlio di questo passaggio. Proust nasce nel 71, quindi in piena comune, tra fuoche e fiamme, e si spegne nel 22. Quindi attraversa esattamente un trentennio del vecchio secolo e un ventennio del nuovo e in questi 51 anni sperimenta tutte le trasformazioni della società che proprio su quel tratto di strada che è quella secondo me dei Grand Boulevard che è quella che a Parigi racconta di più la città perché proprio taglia in due la capitale fra nord e sud. In quel tratto di strada è proprio evidente questa trasformazione con tutte le sue contraddizioni perché Proust tra le sue paure ha paura, per esempio ci sono delle pagine esilaranti sul rapporto fra Proust e la prima metropolitana di Parigi. Proust fugge atterrito però al tempo stesso Proust si innamora di un aviatore quindi esperimenta questa ebbrezza del volo comunque quest'idea di un velivolo che si sollevi da terra ed è un uomo che comincia con le carrozze con le carrozze quindi veramente la sua vita è anche una testimonianza di questo passaggio che a noi sembra immediato ma che per chi visse in quei momenti di cambiamento io credo dovrebbe essere qualcosa di estremamente anche spaventoso quindi un uomo veramente testimone di un cambiamento troppo grande e forse anche troppo veloce per i tempi. e in questo libro a Parigi con Barcell Proust i capitoli sono delle vie abbiamo già nominato alcune ne abbiamo già nominate alcune per esempio Caran Sengri de Sursel e poi abbiamo sulla fine il Boulouard Malherbe al numero 9 e qui c'è un altro dato importante della vita e Luigi La Rosa scrive che questo indirizzo procura un batticuore più forte perché? Sì devo dire questa è la casa dell'infanzia ed è la casa per quanto Proust non nasca a Parigi ma nasca presso gli zii materni perché proprio in quei giorni la comune consumava una battaglia sanguinosa a Parigi dentro la città quindi la famiglia ti viene opportuno farlo nascere alle porte di Parigi però ecco lì Proust il Proust bambino sperimenta le sue prime ferite ed è molto bella una delle scene più belle della recherche quella in cui il narratore ragazzino scruta il cielo di Parigi dalle vetrate perché l'aria di neve impedirà al Gilbert di andare a giocare agli chance di sé e quindi la paura di restare chiuso a casa e di non vedere questo giovane primo amore del narratore rappresenta una delle pagine secondo me più emozionanti della ricerca ecco lì ti rendi conto che è la casa il luogo in cui il Proust bambino sperimenta queste prime suggestioni questi primi tormenti tra l'altro proprio sul lato opposto della strada sorgeva la colonna Morris dove lui andava a vedere i manifesti delle opere che davano in teatro quindi il suo amore anche per le attrici per il teatro per le prime manifestazioni dell'arte e della bellezza in questo ragazzino di una famiglia molto molto borghese che benestante che viveva nei ritmi ma anche nelle privazioni nelle imposizioni culturali dell'epoca per cui questa madre molto presente e poi questo ragazzino cagionevole che va governato va tutelato va controllato seminando nel bambino anche le prime le prime nevrosi le prime fragilità che poi diventeranno la tragedia dell'uomo adulto soprattutto nel rapporto con la madre un rapporto tirannico ma anche al tempo stesso estremamente apprensivo estremamente fondamentale per lui come uomo quindi ecco quella credo sia la casa emotivamente più più intensa anche perché ormai ce lo insegna anche la psicologia noi siamo quello che siamo stati nei primi anni di vita quindi i primi anni il Proust bambino determinano tutto l'uomo lo scrittore l'artista ecco lei scrive che il Proust bambino non è poi troppo diverso dall'uomo visionario che diventerà crescendo e questo è un fatto importante se vogliamo entrare nello sguardo di Marcel Proust perché quello sguardo bambino che lui ha mantenuto gli ha dato la possibilità di essere di diventare uno sguardo di vero artista eh sì è sempre l'eterna storia del bambino che rimane in noi in fondo il Proust adulto è un bambino mai cresciuto che continua per esempio il rapporto con la cognata che è un rapporto infernale ci sono dei capricci che il Proust adulto fa come se fosse un bambino dei litigi terribili per un cappeto per una console ecco lì ti accorgi che in fondo quella parte bambina è rimasta ma è rimasta soprattutto nelle suggestioni nelle emozioni è rimasta anche nella mancanza di come dire di responsabilità tra volte per esempio come lui gestisca malissimo la sua salute come lui non si preoccupi minimamente di curarsi l'incapacità di trovare un lavoro c'è un'esperienza che io racconto nel libro che è quella della biblioteca Mazzarin fu l'unica breve esperienza di Proust come tentato bibliotecario ma in realtà dopo un mese si accorge lui per primo che non è adatto tant'è che non si sveglia non riesce a mantenere gli orari di ufficio e quindi la biblioteca cortesemente gli fa capire che è il caso di interrompere questa collaborazione quindi è un uomo che decide in parte di rimanere bambino perché rimanendo bambino puoi continuare a dedicare la tua vita al sogno all'immaginazione mentre la vita degli adulti è quella che fanno il padre e il fratello Robert che sono medici che hanno delle responsabilità nei confronti dei pazienti cioè che si assumono dei ruoli adulti ecco Proust rifiuta questi ruoli può anche permetterselo perché comunque viene da una famiglia benestante quindi può anche non lavorare ecco questa è stata la sua grande fortuna però è anche secondo me è anche una scelta esistenziale cioè lui sceglie di rimanere bambino perché rimanendo bambino può tutelare quella parte di immaginario che comunque l'età adulta ci impone a volte di sacrificare di spegnere come dire di normalizzare tra virgolette ecco e chiudendo questa conversazione prendiamo proprio spunto dalle ultime righe di questo libro a Parigi con Marcel Proust le stagioni della memoria dove vedo la sottolineatura tra le tante e c'è Proust la sua storia la più bella favola di sempre ed è proprio così che la vita e soprattutto la scrittura di Marcel Proust prima di salutarci Luigi Larosa invece qual è qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni in questi giorni sto leggendo un libro molto molto bello di Anna Folli intitolato Ardore Romangari e Jean Sibac esatto esatto la storia quella è una delle grandi anche delle grandi storie d'amore di tormento che mi hanno molto fascinato poi io amo moltissimo Romangari quindi ecco e devo dire mi sto anche lì sto ritrovando stamattina leggevo il paragrafo in cui loro finalmente scappano da Los Angeles tornano a Parigi e si vanno a rinchiudere in questa piccola garçonner che sta praticamente all'Ile della Cité quindi esattamente dietro Notre Dame e tornano a Parigi in maniera in maniera anonima devono rimanere chiusi perché sono talmente celebri che sarebbero soprattutto lei sarebbero riconosciuti fermati per la strada tra l'altro lei è sposata con François quindi lei ha un marito un giovane marito da cui fuggire e credo che tutto questo torni in quella magia che ha Parigi in quella capacità di costruire storie che ha la città perché è davvero un immaginario che si somma ad altri immaginari e diventa una stratificazione senza tempo senza fine quindi in questi giorni mi stanno accompagnando queste pagine e questa storia per certi versi romantica ma estremamente tragica grazie davvero è drammatica veramente ma molto molto singolare in ogni modo si può definire una vera storia d'amore il libro di Anna Folli Ardore intitolato e pubblicato da Neripozza grazie davvero Luigi La Rosa e buona giornata grazie a voi è stato un bellissimo viaggio grazie grazie